via al backhopering via al backhopering ragazzi vediamo un pochino abbiamo questi fan choice della serie A io onestamente di questi non vorrei immobile se trovo immobile e se trovo ibra anche belotti per rifare un po' la quagliarella per rifare un po' la nazionale non ho interesse onestamente a trovare cioè paradossalmente voglio quelli con meno valutazione questi tre ce li ho già quindi non ho alcun interesse a trovarli stiamo calmi poi per quanto riguarda invece i potu ragazzi c'è a sard che ha azzeccato la partita a verlo non sarebbe male perché è un ottimo cls alaba all'ennesimo sarebbe joao felix ottimo il pappa come il pappa hanno messo il pappa hanno messo il pappa e questo appunta che bella baggata e anche borca mayoral sarebbe tanta roba bene ragazzi allora speriamo di non prendere il pappa con tutto il bene e gli auguriamo il meglio sempre sia lodato sempre sia lodato vediamo un po' dove andiamo vediamo un po' dove andiamo andiamo in Francia chi c'era in Francia? il pappa? no chi è? palla nera golovin mannaggia oh è buono a vendere il cocco ma chi è questo? a vendere il cocco golovin show 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 hi le pulen guys follow everybody tutti quanti dovete seguire le pulen super streamer super player defense vi raccomando ciao magic kenzo allora fammi vedere un po' chi è che volevamo prendere? dove gioca sto boadu? nella zetta? questo mi interessa dai dai andiamo andiamo in Olanda andiamo in Olanda tu Rilt la tua meta preferita dai andiamo in Olanda e andiamo in Olanda andiamo in Olanda ci sono network del Piero e Buffon a Manmarco dove stiamo andando? dov'è questo posto? su Dettuno stiamo andando chi è? Alaba vincita il quarto che prendo basta basta lo stalker non se ne può più ma basta ma ne ho 2000 basta basta via converti ce l'ho già 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 cosa vogliono fare cosa vogliono fare cosa vogliono fare in Olanda cosa vogliono fare cosa vogliono fare cosa vogliono fare cosa vogliono fare ce l'andiamo in Olanda ce l'andiamo no in Italia chi c'è in Italia? porga L'unica palla oro di cui sono contento Questo è top vostro Giusto 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 così Ti attacchi al tram giusto così Oh Borja Maglioral Questo diventa molto forte ragazzi Questo diventa molto molto forte C'ha 35 livelli Non male non male va bene Va bene ok ragazzi Allora io farò Per i fans choice della serie A 8 giri ma se trovo Immobile Berotti E fammi vedere chi mi interessa Allora mi interessano Immobile Ibrahimovic Berotti E uno tra quali arello è caputo Degli altri non mi interessa Quindi andiamo Vediamo un po' che cosa succede Vediamo un po' che cosa succede Mannaggia Turi Che brutta notizia per te Che brutta brutta notizia Allora vediamo un po' Gervinio Questa è una persecuzione Non è Pes per Alonso Grey Fox Senza Gervinio E questo è baggatto Ragazzi È baggatto Gervinio Baggattissimo Gervinio Go Cervinio 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 Ne sono sicuro Ne sono sicuro Prima Ibra E poi Lukaku Prima Ibra E poi Lukaku Ma sei un guffo Jack Ma sei un guffo Ma quanto guffi Ma io non lo volevo Ma io me ne vado Me ne vado Me ne vado Basta Me ne vado Ciccio Pensaci tu Ciccio Ti odio Jack Ti odio Ti odio Ti odio Veramente Cioè Veramente Vergognati Ma mi vergognati proprio Ma ti Adesso se non esce Ibra Il prossimo immobile Se esce immobile Cioè Non lo so Che cosa Hai poteri Cioè i poteri Vediamo un po' va No? Chi è? Fallanè Falla Oro Chi è questo? Pereira? Ma chi è? Del croftone Chi è? Baggattissimo Tra l'altro Ma la Oro Super baggata Del croftone Va bene Va bene Eh però Niente doppione Ah quello è già È già qualcosa È buono per vendere il coco Sì è veloce In spiaggia Corre Corre veloce Corre veloce Vediamo un pochino No Basta 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 Pure questo qui Basta L'ho preso 50 volte Basta Non lo voglio più Basta Ma basta Ma ne ho 40 Basta E questo Raffiguriamo panini Basta Basta Cioè un incubo è Non ne posso più Basta CR7 Basta Devi starmi lontano Basta Ma basta Ma non è possibile Uno stalker Ancora sto qui Ma Ah Pedro Pereira Ma che succede Ma veramente Via Via Vendere il coco Terribile 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 Dai dammi Ibra Dai basta Mi hai dato Pedro Pereira Due volte Per cortesia Siamo seri Siamo seri Siamo seri Vogliamo Ibra Vogliamo Ibra Immobile Ciruzzo Bello Ciruzzo Bello Ciruzzo Bello Ciruzzo Bello 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 Lo amo Lo amo Lo amo Lo amo Il mio ciro Il mio ciro nazionale Direttamente all'Italia Vieni 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 Oh Finalmente una bella pescata Vai 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 Uno l'abbiamo preso Uno L'abbiamo preso Dai Adesso il gallo Così faccio l'attacco della nazionale Gallo 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 Zapata Buono Buono Non lo volevo Perché ce l'ho già Però possiamo darlo sopra E quindi Va bene Va bene Dufan Vieni Vieni Va bene Va bene Ci piace Ci piace Ci piace E' uscito il cugino di Lukaku Zapata Dai Dai Voliamo il gallo Dai Aumentiamo i giri Aumentiamo i giri Li facciamo tutti sulla serie A Facciamo tutti Dai Facciamo tutti E' partita la slot machine ragazzi Vamos Caputo Ciccio Caputo Bello 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 Ciccio Ciccio La butta sempre dentro il nostro ciccio Caputo Vai Vai Adesso The God Bella Stai Adesso The God Adesso The God Adesso The God The God Vogliamo The God The God The God The God Io C'è anche il buffo Qua Stai bravo Vai Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Grazie a tutti. L'abbiamo preso! L'abbiamo preso! Finalmente! È arrivata The God alla corte di Alonso Gray Fox! Mannaggia a te che ci hai fatto perdere il derby, maledetto. Però ti amo, quindi sei perdonato. Vamos! 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 Dai, adesso il gallo nazionale. Forza! Gallo! Gallo! Comunque il baffo arricciato ha funzionato, eh. Ah, di nuovo Duvan, va bene, va bene, va bene. Poco male, poco male. Duvan va bene. Esatto, esatto. Questo va bene, ragazzi, perché poi sono tutti da maxare, questi giocatori. Vai, altri otto giri. A meno che non arrivi un giocatore. Sarebbe interessante vedere anche un difensore, però non ce ne sono ancora usciti. Buongiorno, Francia e benvenuto. Eh, basta! Ok, quanti no? Ho tre Duvan, li posso scambiare? E con chi? Con Neymar. No, ma non lo scambio, li uso per maxare, ma figure. Vai, vai! Abbiamo sostanza con... Mamma mia, oh! Posso schiararli tutti e tre in campo, magari. Vediamo un pochino. C'è il Claren't Ventura, grazie per il follow. Benvenuto. Perin, Perin. Buono per vendere il cocco. Bravo, bravo, Perin. Stiamo pescando gli MVP della Serie A. Ma poi Perin da Galli Vatti sarebbe MVP. Poi Don Lu comprendi sta cosa. Vamos! Cos'è questa spala laser? Sto cercando il galluazzo per tutti, Francia. Abbiamo già trovato Ibra. È immobile, è caputo. Ilic del Verona! Bello di papà! Vieni, vieni, vieni! Vieni, il baby fenomeno del Verona. Vieni, vieni, vieni a papà. Vieni a papà. Vieni a papà. Vieni a papà, vieni a papà. Vieni a papà del Verona. Potevamo mettere Silvestri come portiere, eh. Cioè, vorrei capire. Boh. Silvestri sta facendo un campionato incredibile. Baby fenomeno. Baby fenomeno. Il nostro... Il nostro Ilic. Vediamo un po'. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Ops. E mo... E mo chi glielo spiega, Ibra? E chi glielo spiega? Lukaku. E mo? E adesso? E adesso? E adesso? E mo? Che facciamo? Che facciamo? Che si fa? Ragazzi, per favore. Nello spogliatoio. State buoni, eh. State... State calmi. Con calma. Mi raccomando, ragazzi. Con calma, eh. Con calma, eh. Con calma. Mamma mia, Jack. Vedio io. Vedio io. Ok, Berotti e Quagliarella mancano. De Paul. Buono. Questo è baggatissimo, ragazzi. De Paul, ottimo. Stiamo facendo la spesa, veramente. Mamma mia. Bellissimo. Grande Rodrigo. Gran giocatore. Molto, molto forte. Una partita li metto, ragazzi. Una partita li metto senz'altro. Grande Rodrigo. Top giocatore. Veramente, veramente forte. Veramente forte. In una... In una... Centrocampo a tre validissimo. Però, cavolo. Quagliarella vorrei. Quagliarella mi ha dato la nazionale del 2020. Mi piacerebbe averlo. Chi è balla oro? Salva. Ma chi è? Ma chi è questo? Ma chi è? Esatto, esatto. Ma chi è questo? Ma sei... È Turi. Ah, è Turi. Ah, è Turi. Ok. Ultimi due giri, ragazzi. E poi... Starà a voi decidere se dovremo girare le Icon della Juve. O ancora cercare il Gallo e Quagliarella. A meno che non escano adesso. Ma dubito fortemente di avere questa chiappa. Ah, basta! Hai rotto le scatole. Mi hai rotto. Mi hai rotto. Non ti sopporto più. Non ti sopporto più. Via, via. Via, via. Via, via. Se hai messo un altro, veramente... Guarda, eh. CR 7777. No, è di più. 777777. No. 7 milioni e 7777.7777. Magikenzo, ci stanno... Mamma, 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 per in. Basta. Ok, ragazzi. È fine terribile. Però abbiamo trovato Ibra. Abbiamo trovato Immobile. Abbiamo trovato Lukaku. Abbiamo trovato due Ronaldo. Non ci possiamo lamentare. Non ci possiamo lamentare. Mi raccomando, ragazzi. Il video di questo pagopate lo troverete su YouTube. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.